I consiglieri del Partito Democratico e Mario Mazzocca del gruppo Uniti per Caramanico oggi in conferenza stampa hanno sottolineato come la riapertura delle termi di Caramanico sia dovuta più al merito della società concessionaria che non alle istituzioni. Dalla regione in sostanza sono arrivate più che altro dichiarazioni generiche e nessun atto amministrativo o richiesta di riconvocazione del tavolo presso il Ministero. In questo modo, ha precisato Mario Mazzocca, ex assessore regionale, non si assicura la continuità della riapertura. Sì perché la riapertura in realtà non è stata da parte della regione ma da parte del privato che evidentemente ha maturato questa decisione solo nelle ultime settimane. In realtà da parte della regione non abbiamo ancora nulla al di là di questo tavolo instaurato dall'assessore Febo ma a cui per esempio non partecipano due assessori che sono comunque competenti sui fondi già precedentemente stanziati come Laveri e Campitelli. Quindi noi abbiamo rivolto dieci domande a partire da quelle sul bando di questi 900 mila euro che sono destinati alla cittadinanza, alla cittadinanza abruzzese, all'utenza e non al privato per la spesa del quale c'era bisogno di un bando regolamento fra l'altro predisposto già dall'allora sindaco di Caramanico Terme insieme agli uffici tecnici di cui non si ha notizia. I fondi sulle piscine termali, questo ulteriore milione di euro che sicuramente potrebbero rappresentare un fatto importante anche e soprattutto in considerazione di questo periodo di crisi e soprattutto poi il fatto che il tavolo del Mise, istituito un anno fa oramai presso il Ministero del Sviluppo Economico, sta ancora attendendo questo documento che la Giunta regionale dovrebbe semplicemente deliberare sulla possibilità di utilizzare una parte del budget non eroso, quindi ancora disponibile a favore della riabilitazione termale. E su tutto questo non c'entra nulla il fatto che il privato sia in situazioni di liberazione volontaria. C'è invece una latitanza sul piano dell'assunzione delle responsabilità, latitanza che la Presidente del Giunta regionale invece non aveva assolutamente praticato.